Ok Un po' Abbasciamo un finino secondo me Cloud PVE Allora Andiamo dagli inglesi Sound Vabbè Secondo me devo abbassarlo ulteriormente Andiamo un po' Forse ancora un po' Andiamo al 2.7 No Dovrebbe andar bene Speriamo che vada bene Allora Proviamo questa qua Ah però è difficoltà più elevata Eh Allora facciamo una cosa La creiamo Andiamo nella necropoli Che non l'ho ancora vista Vai Vediamo che arriva qualcuno Allora Allora Proviamo a invitare Qualcuno Non c'ho Giochiamo tra gli amici qua Perché Grazie a tutti Non ci sia nessuno Va bene Allora No questa l'ho già fatta Proviamo Ok L'ho già fatta però vabbè Tanto per ammazzare Il tempo O farci ammazzare Sono punti di vista Ma se io sposto il monitor Così Eh no Ah dovrei spostarlo parecchio Vabbè chi se ne frega Ma chi se ne frega Disse il mago alla strega Disse il mago alla strega Wow wow Fight Allora qua escono Mi stiamo attenti Ricorre con Spassero La pompa La patate Siamo in 65 Ora qua non arriva niente Qua che arriva Ripariamo Ah posto Ah ah Ti ho sentito Ma sei un robot Anche brutto Ma Il salto è fatto Uh non passi Non si può mettere qua una No Se abbiamo pensato Alla stessa identica cosa Io colpisco Ti ho visto Ah no sei morto Vabbè Ripara ripara Vediamo a che round arriviamo Siamo arrivati Arrivati al round 3 Niente Qua appena si apre Uscirà l'inferno Sono sicuro Guardalo lì L'ho visto Porca va qua È difficile È un fan di somebody Ah no Niente Round 4 Fuck yeah Ciao zap Sto facendo una prova Ho provato Ad abbassare la qualità Ad downscalare la La risoluzione Che mi dici Vedi tante differenze O È uguale Ah questa la devo riparare Vero Ci metto un anno A ripararla L'ho fatto L'ho fatto ovviamente Per tutta la gente Che non riesce a seguirmi Poi un'altra cosa Puoi dirmi se I livelli audio Sono buoni O se è troppo alto Perché la scorsa volta Quando ho fatto questo gioco qua E l'audio Ho regalato la replica L'audio era troppo alto L'audio del gioco Adesso l'ho L'ho abbassato Spero che Che vada bene Dimmi tu Ripariamo anche questa Eh no Mi chiedo dove Tira fuori la chiave inglese Aia Adesso l'ho rialzato Guardalo lì E lasciami Questi sono pure più veloci Dai giù Diventa sempre più difficile Qua è chiusa Abbiamo praticamente Tutte le zone di spawn Sono chiuse Speriamo Speriamo di riuscire Siamo all'ondata Round 5.5 Quindi siamo all'ondata 5 Ok Perfetto Ah ma c'è anche qua sotto E chi lo sapeva Questo Cosa ho fatto Ho fatto una cazzata Ho fatto E mo Guardala qua La zanzara Ok L'audio ok Perfetto Qua Guarda che arriva L'importante Zappa appunto Che non si vedono i quadrettoni L'importante è quello Pazzo avanti i cani Che ci sono Eccoli che arrivano Cavolo Quello grosso Ok Tiè Un altro No Non arriva Ripara 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 Attacca 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 Ciao Giochiamo Sei tornato Col tuo nick Di prima Ci spiazzi Tutti Ti sei appena Svegliato Dalla bara Per caso Anzi Forse dovresti Tornare Nella bara Adesso è troppo presto Tiè Sento Mostra Tutte le palle Pardarita Vai Fatevi sotto Oh cavoli Non si fanno Non si fanno Brucare Tira Tira Questa Cosa Stammi Lontano Bene Perché io Odio Quadrettoni Facciamo una cosa Ripariamo Queste finestre Qua Perché Sennò Ci arriva L'inferno Fra poco Questa è fatta Questo cane Con che scatola Ha fatto Oh cavolo C'è Big Jim Di nuovo Vieni qua Vieni qua Big Jim Mi insegno io Oh cavoli Perché c'è Sta fumera Hola Ondata 9 Mmm Ma mi sa che fra poco Arriverà l'inferno Veramente Tanto facciamo punti Su punti Nessuno Ci fermerà Mai E chi T'ha visto A te Ah ma Sti cosi qua Quando esplodono Fanno Fanno La fumera Ecco Che erano Sì Vai così Non vedo Un cavolo Aiuto Signori Venite un po' giù C'è una committiva Non molto felice Ragazzi Datemi una manina Per favore Bene Devo prendere Un'altra arma Ci sono armi Qua in giro No Cacchio Mi servono munizioni Assolutamente Da poco Li prendo Li prendo a parolaccio Ma forse qua dentro No Qua si deve riparare Qua è fatta Uh Là c'è un'arma Là c'è un'arma Là c'è un'arma Sembra un Un uzi No Cambio Con Questa Qua Perfetto Poi abbiamo Una granata Mi piacciono Le granate Dove Assolutamente Riparare Questa Perché ho paura Che si apra Quella Però non si apra Cacchio Cacchio Via 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 Vissima Questo 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 Doppio danno a tutti Oh cavoli quanta gente Non mi avrete mai Viva Sparo nei sacri gioielli di famiglia Non far caso a me Io sono una bellissima Farfalla Ah siamo rimasti In tre Bene Bene Cacchio Mi serve un'arma Qualcosa Perfetto Quante munizioni Poche Poche cavolo Poche Qua siamo messi Male Giustate Cosa state lì a guardare Yeah ragazzi Quattro token Ne volevo di più però Va bene Dai si giochiamo Aggregati Aggregati Che facciamo un po' di missioni Uh la necropoli Io mi metto ready Volevo fare già la necropoli Ah ok Sono andati via tutti Bene Dai vieni vieni Ma la scorsa volta giochiamo Mi avevi Mi avevi aggiunto tra gli amici Oppure mi avevi semplicemente cercato Perché io non ti ho tra gli amici del gioco Ancora giochiamo Cambiato nome E' deciso sai Ma vediamo se ce n'è già una Già una aperta di Vediamo Fighting No Dragon Vali l'abbiamo già fatta Questa no Penso Mettiamoci ready Ho perso 42 frame Non so per quello scuro motivo Vabbè Era stata una laggata Da parte del server Quattro token così A caso Bene Sono contento Mi piace fare punti A caso Ok Allora Datemi Arrivo 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 Oh caos Ok Ora Ora che tiri fuori l'arma E' bella che è morta Ah questo qua è il Fucilazzo Non posso correre Managgia Così si fa Devastante E' devastante Quest'arma Ma no Non riesco a colpirli Andiamoci Schiena contro schiena E levati Uh lancia granate Mio Ai 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 Come osi Adesso ti faccio saltare In aria Se riesco Non riesco a passare Prendiamo di qua Sono un genio Yeah Round 7 Ops Ho visto dei cubetti Come esplosione Come particellare Ma se sei bello Toriaceo eh Cavolo 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 Ciao 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 Di nuovo Ah ma ho finito Le munizioni dell'altro Le munizioni dell'altro Mannaggia Ho finito le munizioni Del lancia Cos'è questo Ah lancia fiamme Questo qua Non lo ricordo Non mi piace Non è abbastanza L'uomo Ora qua il ragnetto Devi decidere chi mirare Mi dispiace Potrebbe essere pericoloso Tutti qua in casuccia Guarda come si nasconde Quello Guarda quanti sono Oh cavoli Lancia fiamme Ah questo è troppo lontano Meglio usare Questo qua Sparo sulla spalla Qua ci dovrebbe essere qualcuno Eccolo qua Morto Però c'era Ho fatto schifo In questa In questa Ondata Mannaggia Potevo fare di meglio Non mi è piaciuta Però questa missione Vediamo se C'è qualcosa Di più carino Qualcuno mi ha invitato Vabbè Ehm Ma se no Chi se ne frega Credo io la stanza E tanto Piacere Allora io voglio fare Necropole Assolutamente C'è anche te Veramente Fai una cosa Raggiungimi nella stanza Va che ho creato una stanza C'è anche te 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 Non è che qualcuno arriva Facciamo una cosa Invitiamo gente a caso Allora Non c'è invite Ah si invite Invitiamo a caso Questo è andato No zappa non ho sbloccato niente penso Dopo controlliamo però effettivamente Mi ha fatto venire un dubbio Siamo a caso Completamente a caso Ok Tanisha sei tu Giochiamo Vero Stiamo a caso Completamente Allora Partiamo in tre Speriamo che siete potuti entrare Andiamo un po' Che sennò quel tizio là Se ne andava via Oh no L'altro non ha Non ha star Ah vabbè Adesso arriverà Ok Giochiamo Spacchiamo i culi Facciamo tanto male Qua arriverà di tutto Headshot Un colpo basta In testa E boom Stiamo attenti Che quando si apre Eh giochiamo Vai dove vuoi Tanto qua Per ora ne arrivano Veramente pochi Non è un problema Si è nascondi dietro Alla tua Le tue spalle Aspetta Intendi lei E ripariamo Ah guardali qui Ne è cominciando a sfondare Opla Tira fuori la classica Chiave A brugola Da nulla Oh no Questa qua È Aggiustata Quest'altra porta È aggiustata Ammunizioni Sono messo Tra virgolette Bene Di cavolo Di cani Oh Bene 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 Chiunque abbia preso Quel potenziamento Li voglio tantissimo bene Mi sa che hanno sfondato Infatti Il tuo gnocca radar Segnala benissimo Si tratta di una Di un'assassina Di Guild Wars Uno Era un personaggio Del gioco Che mi spiace Ma non mi ricordo Assolutamente come si chiama È una bella topolona È un poster Che davano Che vendevano Insieme Al gioco E la cosa bella È che è un poster Bifase Diciamo Dietro c'è un altro personaggio Ovviamente Femminile Che mi pare Che era La negromante Non la negromante La La ritualista O qualcosa di genere Ok Ok qua è È riparato Questo qua è Big Jim Che ci salvo Oh mio dio Una comitiva Alve Oh cavolo E via E via Uno dei nostri è morto Come ha fatto a morire Adesso Ripariamo Ripariamo tutto Oh cavolo Big Jim Di nuovo Cavolo No 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 Non c'è un attimo di pausa Ahia Cavolo Fatemi lontano Uno Lo resti Guarda Elibrag Se stai seguendo la live Adesso non posso risponderti su Steam Comunque Di Dungeon Defense Non ho la versione Con tutti i DLC Ho la versione Base Senza neanche un DLC La versione Pacca deluxe Tipo la panda base La panda Però devi dire Se vuoi fare un live Insieme su quel gioco là Mi devi dire Perché devo ancora Devo riscaricarlo Non ce l'ho installato Cosa stanno facendo Qua in giro Allora Aggiustiamo tutto Ah si Le casse Le casse Mannaggia Avremmo perso 16 di casse Ultimamente Ma mi sa che è tutto riparato Adesso arrivano Arriva la gente Molto grossa Brutta e cattiva Sono molto contento Sono molto contento Mi piazzerò qui Ammunizione Ammunizione Non ho pronunciato Non ho pronunciato Quella parola Perché ovviamente E' un tuo E' una tua invenzione Poi Poi mi citi Un tribunale Per violazione Di copyright Allora ripariamo Un po' tutto Qua Allora Ma qua non c'è niente Qua Non ci sta niente Andiamo sotto Vediamo un po' Il perizoma Di Della nostra Begnamina Che qua è un po' Da riparare Anzi l'hanno quasi sfondata Per fortuna Che me ne sono accorto Subito Maronna mia Qua sotto Quanto l'hanno distrutto Oh cavolo Dove sei? Dove sei? Fumo A posto Qua assolutamente Da riparare Quindi guardalo lì Ripariamo Che duro lavoro Ragazzi Riparare E prendiamo anche Un'altra arma Perché l'altra Mi arma E' scarica E dammi le munizioni Vediamo un po' Cos'è che c'è Adesso faccio La dual Quasi quasi Mi è costato tantissimo Questo ricaricatore Ah Hanno sfondato Questa porta Oh cavolo Fortuna me Sono accorto E arriva un altro Ok Vediamo di ripararla Va Questa cos'è che fa? Boh Non lo tiro Qualcuno tiri La leva Ok Ripariamo anche questo Ma non c'è proprio nessuno Qua che arriva Una cosa Vado al piano di sopra Ok Sto qui Aia Lo sto riparando Soltanto Mi comincio Mi comincio Un po' a stancare Di riparare tutto Qua è un posto Oh guardalo lì Dove ha sfondato Questa Acqua Qua 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 Round 10 Però io sono curioso Voglio vedere cosa succede Se tiro questa leva Le locuste Le locuste Mille mille locuste Figata Carina come idea Mi sa che si usa quando c'è tantissima gente Spero che non faccia male anche a noi Comunque qua c'è veramente poca gente Cioè Poi adesso vado su Tanto questo qua da solo ce la può fare Io ho fiducia di Ah mi sa che ci sono soltanto io qua sotto Anzi Quello se l'è squagliata Arriva qualcuno Di un po' Pericoloso Ciao Facciamo un po' Di punti Ah giochiamo Sei crepato Ma no Torna subito in vita Non ti ho dato l'autorizzazione Di morire Arriva un altro Ma qua teoricamente si dovrebbe aprire Oh cavolo Non so se ho fatto una grande idea Ad aprire Aiuto Ma perché Cavolo ho aperto questa Cavolo di roba No 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 Le asce non mi piacciono Sono allergico alle asce Ah ma era tutta così? Non aspettavo molto meglio Beh cambiamo Cambiamo la cosa Vabbè vediamo un po' Questa no Non mi piace Proviamo questa qua Sietevi tutti ready Se no parto lo stesso E vi lascio indietro Beh partiamo La mia freccia Ammazza tutto quello che vedi Tradotto Guardalo lì Guardalo lì Ma sono giapponesi Sono zombo giapponesi Ni hao Ni hao Questo è il famoso È il tipico Zombo Cane giapponese Andiamo qua Se arriva qualcosa Non ci arriva niente Questa porta si deve aprire no? Per 600 Dobbiamo fare 600 punti E apriamo la porta Ah ma c'è anche Questo No questa non è una porta Maronna mia quanti Io apro la porta ragazzi Andiamo 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 Verso l'infinito e oltre Non ho 800 Ah mille addirittura Ok Ora sono cazzi Perché arrivano a tutte le parti Questo ce la fa Fallo fuori Da una mano C'è che ci sono A giusto questo Non c'è niente Ti salvo io dal cane Oh cavoli Quello è grosso Che bello che c'è anche il codino Belli Sono fatti bene però Dai Mi piace Che c'è che era quella Risata satanica Mi spaventa un filino Ah hanno aperto la porta Perfetto Se tiro che succede Devo arrivare a mille e cinque Devo arrivare a mille e cinque Change mag Qualcuno apre la porta Qualcuno che ha mille e cinque Io non ce le ho Io ce l'ho mille e tre Non posso fare niente Cambiamo Un po' di munizioni Per il nostro AK E adesso non ho più Un cavolo di Di munizioni Perché ho preso Oh mai Aia Un giappo Mi ha fatto saltare in area Vabbè Aggiustiamo Non c'è niente Non c'è niente Maronna mia Che bello Quell'arma Perché io ci sono Ci passo sopra Non succede niente È giusto È giusto Dai venite che devo fare Qualche punticino Per aprire la porticina Headshot Oh cavoli Ok Ora si apre la porta Facciamo fuori un po' Di sta brutta gentaglia Apriti Seda E le braghe Eccoti qua Stai tranquillo Non c'è problema Tanto ti hanno Hanno sentito tutti I tuoi messaggi Con il blu blim Di steam Ma nessuno Ha detto niente Perché siamo Tutti bravi ragazzi Allora io non posso Tirarla sta cosa qua Perché non ho abbastanza Senza punti E ho finito pure Le munizioni Perfetto Tra poco Prenderò insulti La gente Quello esplode Una scimmia Ammi lontano Oh cavolo Era il controllo E' il controllo Della CIA Anzi è il bot Di Twitch Quindi è la CIA Essenzialmente Quanto Quanti punti costa 1500 ancora Va bene Prendi Prendi Se lo voglio io Forse non Devo farlo Guardalo Qui Via Oh yeah Ma questo qua Non mi frega Tutte le kill Mi sposto Vabbè Ne vado In un altro punto Faccio i miei Bel 1500 5 Mancano 4 Vabbè L'esplode Fa una scorreggione Oh yeah Perché giochiamo Ti vuoi auto Kiccare Ma guarda quanti punti C'ha quel tizio Cioè Come fai a fare Tutti sti punti E non apri Neanche la porta Camolo Non si tapo Putta Gente Tutti miei Qua sparo a caso Qualcosa colpisco Ai 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 Ok Mi ho fatti fuori tutti Sono Rambo praticamente Ok abbiamo aperto la porta Andiamo qua Qua manca soltanto la palla di Diana Jones Siamo a posto Io direi di riparare questo Che fiocco La red ribbon E' carino comunque come gioco A me piace Il pve mi piace tanto Guarda che arrivano Guarda che arrivano E le bravi Se non hai visto il live precedente Su questo gioco Ti sei perso una grandissima Delle grandissime avventure Guarda Abbiamo visto di tutto In questo gioco Proprio di tutto Ti dico soltanto C'erano dei dinosauri Con dei cannoni Montati addosso Sopra Sulle braccia Tipo Sulle spalle Che bravo Allucinante Merda Come dice Marcus Fenix No io volevo andare avanti Non si riuscirà mai A andare avanti Vabbè adesso cambio la modalità Ok 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 Allora cambiamo la modalità Non posso cambiare la modalità Allora facciamo back Allora Create room Allora Massive survival No facciamo Massive assalt Andiamo in Russia Sono dimenticato Cavolo di aggiungerci ai amici Qua sopra Sig Allora Ok No comunque le brag Poi dopo Dopo gli dare un'occhiata Col gioco che dicevi tu Vediamo come si fa Friend Ora forse ti ho tra gli amici Ok Ah ma siamo tantissimi Mettiamo a caso Invita 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 Non si potrebbe invita tutto Ah si invita all Vediamo se si parte E le brag Basta che vai sul sito Basta che vai sul sito Del gioco E lo scarichi E' in open beta Quindi poi benissimo Scaricalo da te Io farò una cosa molto carina Faccio start No se start E' vero che non parte nessuno Ehm Giochiamo Mettiti ready Così almeno attiri l'attenzione Ok Startiamo Così almeno quest'altro tizio Non se ne va via Tanto è normale Apriamo i culi O ci aprono i culi Andiamo nella fredda russia C'ho già freddo Stasera ragazzi Liveone Serale Di non so che cosa Fatemi sapere voi Che gioco volete Magari E se Ma veramente Due volte Quindi dobbiamo difendere la posizione Capita Vediamo la posizione Ma la posizione dove Quale posizione Io ammazzo tutti Generalmente è giusto Ok ho uno E' provato eh Doom 3 Si potrebbe anche andare avanti con Doom 3 Effettivamente Dice Giochiamo Ole Maronna mia Che neve C'è una muffella Non si vede Un cavolo Pa 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 pam Ma la K domina Che ne è la K Questa però Ti assomiglia Dark Soul 2 Però Dark Soul 2 Alla fine Allora Potrei usare Potrei usare il Continuare col Dual Dual sword però Perché con l'altro personaggio Mi mancano soltanto due Boss Il drago antico e l'altro Quella specie di Cavolo di morte gigantesco Tanto che una volta l'ho provato Ed è stato allucinante Gli lanciava onde energetiche Addosso quella lì E soprattutto lo scudo Non serviva a un cavolo Mi ha tipo fatto malissimo Famma Aia E la peppa Che esecuzione Non lo so Zap C'è Eliebrag Il sì Penso che sia quello Il boss Che intende Comunque quella specie di Angelo della morte Stracazzuto Che ti lancia di tutto e di più È inciampato ed è morto Ma non si può usare Sto car armato Cavoli Ti prego Dimmi di sì Mannaggia Non si può Aia Eh ma non so se E Eliebrag Non so se mi piace Quel gioco che hai detto te Cioè se non Se non mi piace È inutile che lo faccio Lo faccio vedere Generalmente Se vi faccio vedere un gioco Perché ci ho già giocato O comunque so Che potrebbe piacere E soprattutto So che potrebbe piacere Soprattutto a me Perché se no È inutile che ve lo faccio vedere Che giocherei contro voglia Soprattutto a me Eh fermo Fermo Dove vai Adesso ti prendo da fuori E cosa vuoi fare Adesso E che cosa vuoi fare E che cosa vuoi Ti sdrai E prenditi un riposino Però no Non si vede niente Bello sto qua Aio Ho visto la granata Però non pensavo esplodesse Per fortuna Zack C'è l'unico Che lo ammette Guardate i live Di Dark Souls Soltanto per Ridere delle morti Altrui E lo capisco benissimo Perché anch'io Lo faccio Ole Oh L'ha arrestato Bella lì ha Bella lì ha Però mi servono Delle munizioni Vediamo un po' Prendiamo Questo Questo qua dovrebbe essere Tipo il Thompson Manca un nemico Soltanto un nemico Fatelo fuori Abbiamo 40 secondi Per Eliminarlo Cavolo si è infilato Eccoti Eccolo Già Fortunato Eccolo Prendiamo Soltanto Per Scusate Vabbè Elibra che dopo gli do un'occhiata Marona mia ma che rosa C'ha questo fucile Cioè devo stargli praticamente in braccio Al nemico per colpirlo Vabbè Allora andrò in braccio alla gente Rotolando Verso su Ops la gamba Vediamo come ricarica quest'arma Ricarica dopo un anno Però ricarica Potevo fargli l'esecuzione Non l'ho ancora fatta Magari mi sblocca un achievement Tipo Congratulazioni Hai fatto un'esecuzione Ah Vediamo se in questa casa c'è qualcuno Penso che è pieno di qualcuno Guardali qua I cecchini Stupidi esseri Ah non riesco Non riesco a prendere Tanto questo prende le scale Adesso lo frego Salve Yeah yeah Mi ha divorato una zanzara Aia Ah da dietro Cos'era questo? Ah il robottino Un po' se arriva qualcos'altro Forse no Oh mannaggia Ah salve Perché arriva il cane? Ti nascondi eh Non era una grande idea Venirmi in braccio però Venite venite Scusate eh Ok Ma una mia che rosa Che c'ha questo fucile Allucinante Massacro da vicino Ma da lontano Guarda Devi Devi sperare Dio arcano Che c'ha questo fucile Un po' di nemici Eh che cavolo In the face Oh no 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 Ah potevo farti l'esecuzione Cavolo tu sei proprio morto morto Ah ma che bello che sei Guarda mia quanti puntini rossi da questa parte C'è che mi ci trasferisco adesso Via E dai Vabbè fan Va Va Ah mi sta nominando di brutto eh Questo proprio mi sta sulle balle Ok usiamo Usiamo una pistolina Che misteriosamente è più efficace C'è guarda mi è sparato sul boom e poi è morto Uh lancia fiamme Questi qua esplodono che una bellezza Te li colpisci Uh uh esecuzione Esecuzione Yeah Questo Non è un nemico Questo si Finendo le munizioni Fra poco prendo A insultate Ah volevo Fagli un'esecuzione Ma no no Cosa sto sparando Raggi laser sto qua Cosa Lo voglio anch'io quel fucile Olè Ah addirittura c'è uno di un clan Bene Non avrà fine in questa missione per caso O infinita Però che sia Che abbia una fine Siamo parlando 8 Cavoli Per un'esecuz anche え Oh cavoli Una bomba Ma guarda quanti C'è che rideva Ciao E che lancia missili ad tutte le parti Alleluia abbiamo vinto Ciao Nick Nick oil Che live Benvenuto Benvenuto Ok E' un po' troppo noiosa questa modalità sinceramente Cambiamo modalità va Massive assault Proviamo extermination Ok e poi invitiamo Tutti Qualcuno accetterà Si spera Altrimenti Basteremo una giornata a fissarci Tra gli occhi Negli occhi Yeah E' già arrivato un tizio Andiamo a mandare messaggi Spammiamo su tutti Guarda che arrivano Mettete tutti i ready Ecco che la gente Comincia ad andare avanti Io faccio partire Naman Si attacca Ok bello Ambientazione alla crisis Secondo me il cameraman si Stava cagando sotto Dalla paura Ok Siamo atterrati Con un atterraggio Molto Docile Ma scusa ma siamo In una città E ci sono ste strutture Ah forse una chiesa Proprio del genere Non si può passare Ah Non si può Dobbiamo proseguire di qua Siamo un esercito Siamo Qua non penso che si può andare Infatti Guarda dietro Quante ne stanno uscendo Aia Ho finito le munizioni Non penso proprio Non mi fanno manco caricare Cattivi Abbiamo un po' di munizioni Attenzione Robo zombie E io Sbaglio a ricaricare Mi sembra anche giusto Guarda come spawnano Che brutto Quello dietro No Guarda come apre Cudi Non capisco qual è il loro punto debole Se Quella specie di cuore Che c'hanno sul petto O la testa Welcome Everybody It's time to dance Ci sono un po' di munizioni E io me le prendo subito Cavoli per poco Guarda quanti ne stanno arrivando Qua finiamo tutti Molto male Guardalo lì Ciao zap Buon appetito E le brag Provolo pure Perché è carino L'ho giocato ieri sera in live È molto carino Molto 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 Guarda sti ciccioni Ah non mi avete preso Ora si State prendendo anche troppo Aia Porca E rotola Ah non rotola nell'acqua Cioè non sa rotolare Almeno uno lo dobbiamo tirare giù Un altro Porca Ti blocco i colpi Non peggio di Neo Ah Sta zona qua è Radiattiva O comunque Roba verde Bruta e cattiva Ma forse Nia In che senso non parte Che errore ti dai Le braga Riprova Riprova Insisti Ma guarda Quanto siamo Spammoni Non vedo niente Ah ma è velenoso Qualcosa È stato tipo Una moria di FPS Non so perché Il gioco è imploso Con la pistola Si è Abbattiamo un elicottero con la pistola Che vuoi che sia Se ce la fa Jack Norris Perché non dovrei riuscirci io Oh ce l'ho fatta No Nosgot Per questo weekend È stato In open beta Ma non sarà Pagamento Nosgot Non mi pare Cos'era quel coso là Cos'era quel Tentacolo E ti faccio Pure Non mancava soltanto Gli zombie No mettiamoci pure I tentacoli Buon nonna mia La fantasia Sante volte Esagerano Dalla scorsa volta Con i dinosauri Era un po' troppo Bene Adesso li prendo A parolacce Per l'ora Non ho Non ho proprio Munizioni Cavoli Cavoli Ah lì ci sono Munizioni Mie Devo arrivare Lì in fondo Oppure anche qua Ok Carichiamo tutto Per poco Ragazzi Ma qua Dobbiamo far fuori Quei tentacoli Secondo me Sì sì Come non lo so Ma si faranno fuori Quei cosi Io li sparo Ma Qua niente Ma C'è una cosa Ciao Come il cavolo Si fanno fuori Boh Ah ok Arriva Arriva la Arriva il boss Dov'è il boss Eccolo lì Ma non è il boss Sono altri Ah mi sa che è meglio Usare Questa Arriva Non stanno fermo Un secondo Merda Tento tanto Un insetticida Ambulante Cioè Sono citronella Cavoli Mi servono Munizioni E state Allora I Più problemati Sono questi ciccioni Qua La fintina Per poco Cavoli Ciao Bloody Uno zampirone E un raid Guarda Li ho tutti e due Addirittura C'ho in In giordino La citronella La pianta Ogni volta Me la abbraccio Ben bene Prima di andare A dormire Sai come Non si avvicinano Ok E le braga Poi ti faccio sapere Guarda Ci ho provato A giocare Prima Era vero Che era Tipo Più o meno Verso Le due Quindi magari Effettivamente Adesso l'hanno chiuso Vediamo Dopo Dopo gli ho Un'occhiata Adesso abbiamo Un casino Di roba Fatevi sotto Cani malefici Ora vi vengo A prendere sotto casa Anche a te Zombie meccanico Anche a te Albero Ma si Dai No Siamo morti Come dei cretini E adesso Questo qua È da Che brutto Morte No 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 Rivivo Rivivo Non posso Cioè Assolutamente Non vedo Un cavolo Ah Questi Ci fanno saltare In aria Cavoli 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 Non è un po' esagerato Cavolo Addirittura Tre Professori Di ginnastica Non vanno bene Ecco Mi ha smerdato Il monitor Nuovo Nuovo Pieno comprato E me lo smerdano Granata 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 Trenti le granate Cavoli Lancia Ah ho finito le munizioni Perfetto Ah ma sono questi Che lanciano le smerde C'è tanto di sì Eh sì Sono proprio loro Allora sono Da eliminare Assolutamente Oh cazzo Ah ci Vervolina Devo smettere Dire quella Prolaccia Vuole dirò Membro Maschile O membro Maschile E la smetti Di pungermi Cavolo Ancora Stanno ancora Smerdando Tutto Non tantissimi Escono Dalle fottute Pareti Dai Ferma No Stacc Ma no Lo volevo io Perché questi sono Ah esplodono Perfetto Mica Queste sono mie Cavolo Headshot Bitches Uh C'è Wow Dai Non si può Morire così Via 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 Ma sono Corazzatissimi Dentro 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 Che qua Non crolla A meno Spero Cavoli Sono l'unico E lo sapevo Io Mi hanno Struprato Ah L'hanno Chiuso Osti Mi dispiace Allora Mi piaceva Col gioco Ma dovrebbe essere Free Comunque Appena esce Dovrebbe essere Free Non penso Che lo mettano A pagamento Dai No No Basta Con la panza Però Basta Sono allucinanti Sti Poi E tu Anche tu Cane Smetti Se mi lanciano Addosso Oppure Con tutta La gente Che c'è Proprio Me Devi mirare Non puoi Farne A meno Mi Mi Resuscitate Per favore No Eh Siete Tutti Simpaticoni Va bene Tutti Tutti Ah comunque Ciao Comic Non ti abbiamo Salutato Era un Finino Impegnato Era un po Di gentaglia Benvenuto E Lasciami Uccidere Tutta la tua Stirpe Di zombie Per favore Un altro No 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 Mi serve Un Maga Ecco Lo sapevo Sto usando Una trilionata Di me Di Auto No Non penso Che la gente Qua mi resta Ti resto io Ti resto io Ti resto io Ok L'ha arrossato lui Il problema è Sono Tutte queste Cazzo Aia Non riesce a Prendere la Mira Sono Talmente Tanto Fastudiose Ok Una è andata Ne mancano 700 Miliardi O la vuoi Finire E che Cos'è Ok Aiuto Ragazzi Ok Eole Prende sto fregando Tutte le kill Oh mio Dio Quelle esplosive Queste faranno Una strage State un po' Fermi Fermati Prego Ok Apriamo Il cancello Quale cancello Ah quello Per fortuna Che qualcuno Sapeva Qualcuno Sapeva Cosa fare Aha E Mo Dobbiamo fare Andare a piedi Secondo me No Che dobbiamo fare Ah forse Far fuori Ah dobbiamo far fuori Le falene Ma no Porta sfiga Far fuori Le falene Anche se è mutato Ah sono tipo Dei Dei bombardieri Le falene Cavo Non ci voleva Riesco A ribeccare Quella che avevo ferito Vabbè Fuori una Fuori due Fatti sotto Insettoide Ok Mi sa che questo Si fa sotto L'unico Insetto Buono E' un Insetto Morto Per far Frafrasare Un certo Film Famoso Ciao Neas Ah Sti Insetti Odio Gli Insetti Vieni qua Vieni qua Falena Basta Scorreggiarmi Viola Non mi Impollinerai Mai Cavoli 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 Bene Stai lì Stai lì Stai lì Che ti riempio Di piombo Così col cavolo Che voli Ti senti pesante Cazzo So pochissima vita Ah che bella Ho messo su una torretta Oh yeah Siamo rimasti Soltanto in due Mi arrivano Troppi No 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 Questo esplode Che ne arrivano Che faccio il cecchino Anti Insetto Oh porca putt Rotola 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 Cioè qua io mi sto fregando da solo Perché se questi qua mi Se questi qua mi Vengono qui Io sono fregato Ecco lo sapevo Azzard ops Ma siamo arrivati alla fine Ma siamo arrivati alla fine Ci mancava poco Penso Come mi Come mi Sceglieremo il da farsi Orario di partenza Circa come al solito Le nove 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 e mezza Più o meno Quindi vi rimando a stasera Buona serata Buona Buona cena E a dopo Ciao ragazzi